Votare è inutile. Ormai lo dicono tutti, in fondo non cambia mai niente. Eppure c'è stata un'epoca in cui non si poteva divorziare, in cui essere omosessuali era un reato, in cui non si poteva abortire, in cui le donne non potevano votare. Oggi ci sembra tutto così assurdo e lontano nel tempo, eppure stiamo parlando di poche decine d'anni fa. La differenza l'hanno fatta grandi uomini e donne che hanno lottato e hanno cambiato le leggi. Uomini e donne eletti dal popolo, o uomini e donne che hanno scelto attraverso il referendum. La storia è piena di esempi che ci dimostrano come il voto sia una straordinaria conquista, e votare faccia un'enorme differenza. Ecco perché sbaglia chi dice che...